Ci troviamo in una particolare zona di confine. Oltre questo cancello non è possibile andare per nessuno perché le radiazioni raggiungono 0.31, oggi a volte anche di più. E considerate che sopra 0.20 è particolarmente pericoloso. Quindi ci fermiamo sapendo che però a 50 km di distanza, in quella direzione, c'è la centrale di Chernobyl, dove tutto è cominciato perché il 26 aprile 1986 tutto è cambiato. Sono cambiate le vite delle persone che stavano qua attorno, ma non solo, un po' in tutta la Bielorussia ed è per questo che è nato il progetto Chernobyl, che in questo documentario vogliamo raccontare per farvi vedere come anche dalle tragedie possono nascere delle cose molto belle. e tanti bambini che erano in difficoltà nei primi anni 90 e oltre hanno trovato accoglienza e solidarietà in Italia e in particolare in Sardegna. E sono queste le storie che vi vogliamo raccontare, delle nuove vite che sono vicine a noi e che ci dimostrano che c'è sempre una via d'uscita, c'è sempre un modo di rinascere, così come sta rinascendo la natura qua attorno. Grazie per la visione!